ben ritrovati di nuovo su review you oggi vado a recensire insieme a voi una cover per iphone 6 plus e 6s plus marcata j7 la custodia arriva all'interno di questa confezione di carta all'interno ci sono istruzioni andiamo a vederla subito è una cover che ha una fantasia diciamo in carbonio al tatto come vedete non rimangono impronte quindi un materiale comunque bello al tatto consistente quindi non è la solita custodia fragile e all'interno come vedete ci sono anche queste barrette zigrinate che permettono secondo me un ottimo grip dell'iphone all'interno ho inserito prontamente il mio smartphone all'interno della custodia e come potete vedere si presta veramente molto bene la custodia è rialzata rispetto allo smartphone di circa un millimetro e mezzo quindi è protetto dagli urti sulla parte appunto dello schermo e quindi questo è veramente molto utile in questo senso mentre i fori come vedete sono tutti accurati e scoperti utile il fatto che anche questi due tasti sono protetti del volume una cosa che mi piace e che non tutte le custode hanno è il fatto della telecamera che resta come posso dire protetta come vedete da eventuali caduti alcune cover tengono esposta la telecamera in questo caso invece è protetta quindi veramente una custodia carina ben fatta resistente che ve la consiglio a tutti i costi vi lascio per questo il link in descrizione di amazon pagata di circa sui 10 euro se non ricordo male e quindi fatemi sapere nel caso che la compraste come vi trovate anche voi